insegnare ai medici come rianimare velocemente i nonati. Ed ora l'ospedale di Ancone è uno dei pochi centri in Italia, ma anche in Europa, ad avere una strumentazione così all'avanguardia. Ce ne parla Annalisa Serpilli. 50 cm di lunghezza per 3 kg di peso. Il bambino qui davanti a noi, che ha difficoltà respiratorie, in realtà non è un bambino vero, è un simulatore. Si chiama Salesina, perché ci troviamo all'interno della Fondazione Ospedali Salesi. A che cosa serve esattamente questo simulatore e qual è la novità? Allora, questo è un simulatore avanzato di rianimazione neonatale, che permette all'allievo e all'istruttore, nell'ambito di un corso di rianimazione neonatale, di verificare le proprie competenze di rianimazione neonatale all'interno di alcuni scenari che possono essere programmati e gestiti dagli istruttori. In questo momento vediamo che è accianotica. Sì, in questo momento la bambina è accianotica. Questo serve per verificare anche la prontezza e la reazione dell'allievo, in questo caso, e quindi vediamo che lui la sta ventilando, si vede anche il torace che si solleva. A questo punto l'istruttore può modificare i parametri vitali se vede che l'allievo sta correttamente eseguendo la manovra. La novità rispetto ai manichini tradizionali è che appunto tutta la scena della rianimazione si svolge all'interno di uno scenario che può essere di diversi tipi, dal neonato prematuro al neonato con difficoltà respiratoria, cardiaca, eccetera, eccetera, e quindi la risposta all'azione dell'allievo è valutata in diretta dal team. Un'altra novità è che comunque la scena può essere rivista, può essere filmata, rivista, e quindi si può discutere con l'allievo e con la classe degli allievi se appunto le manovre effettuate dall'allievo sono state tutte appropriate nei tempi corretti oppure no, e quindi eventualmente introdurre dei correttivi, diciamo così. Quindi per un medico che cosa è possibile fare su Salesina? Tutto quello che si potrebbe fare in realtà con un bambino vero, è così? Esattamente, si può fare tutto, dalla semplice assistenza di routine del neonato sano fino alle manovre di ventilazione, intubazione, massaggio cardiaco, incandulamento dei vasi umbilicali o intraossei, si può auscultare il cuore e i polmoni sentendo i suoni veri che si possono sentire su un neonato normale e tutto questo a seconda appunto del tipo di neonato che andiamo ad assistere. Salesina fa parte di un progetto più ampio chiamato Progetto Simone e acronimo di simulazione e osservazione neonatale, di cui parleremo tra poco.